L'unione che fa la forza nella prevenzione e nella repressione dei reati, soprattutto in vista dell'estate. Il vice a questo riaggiunto di Pescara, Pasquale Sorgonà, anticipa il potenziamento di controlli e di organico. Per quanto riguarda i mesi estivi, ovviamente essendo Pescara una città a vocazione turistica, noi avremo anche dei rinforzi che ci arriveranno proprio per i mesi di giugno, luglio ed agosto, perché durante la stagione estiva aumentando il numero delle presenze su tutto il litorale avremo bisogno di un numero di persone sicuramente più elevato e potremo anche allargare i servizi in un ambito più ampio di quello che è solo quello urbano. Lei ha detto infatti che non potete essere ovunque, però i cittadini vogliono la presenza sul territorio delle forze dell'ordine. Sì, è chiaro, di fatti la presenza rassicura e quello che è importante è la percezione della sicurezza. La percezione della sicurezza si ha quando si vedono divise nella strada, anche quando si tratta di orari magari dove non c'è la luce del giorno, anche dove si tratta di posti che normalmente non sono molto frequentati, anzi a maggior ragione se i posti sono un po' isolati sicuramente fa più piacere vedere una pattuglia.